Sì, me l'ho messo sul titolo. Ah, ok. Mi sono permesso, se mai togliamo. Quale il miglior modo di passare con il mio compleanno se non è una funga? Ci siamo. Allora, Terry contro Eion. Quindi ma, aspetta, player 1, player 2. È un modo generico così. Allora, player 1 abbiamo... Aragosta versus... Tensione. E' il mamma trova. Quindi c'è questo match molto preciso, molto tecnico. Sigma male grinds, già 74 di danni. Lo tiene cornerato. Down throw. Abbiamo? Ok. Attenzione! Si muore, così. Succede, succede. E' robato, robato. Oh! La combo? È partito a mille più ombre vari. Oh! Divene al massimo! Proprio... È un bello giugno una volta! Oh! La spina sulla stage. Primo step per la Redisburra. Questo stage, non so. Ma penso sia buono per entrambi. Forse per Terry ci potrebbe stare, perché se hanno usciuto comunque... Care poveri! Attenzione! Bello! Ah! Peccato! Penso fosse con un Fsmash o 3 remoto tranquillamente. Bell! Catch che era! Fair! No! Quella è un... Lapp B! Ah! Lapp B proprio! Per entrare e per... Oh! Io di Terry non so nulla. Infatti ero guardando questa partita. Attenzione! Prova il fair! Ah! Non è bastato! Attenzione! Non è bastato! Il Mammator incazzato come un mostro! Incazzato nero proprio! Attenzione! Non è bastato il back row a 184! Io! Ma io com'è pesante! Cioè... Non lo so! Io... Come penso non c'ho idea! Si! Sarà poco e mezzo! Attenzione! Preso il cervello e il torino esploso! Sì! Il poke! Eh sì! Attenzione! Combo su combo! 48% così! Per capire! Il bello è che se adesso... Comunque arriva una percentuale alta! Riesce a non... Oh! La spina! La spina! La spina! La spina! Riporta iper in questo game! Questa era una 3-2-3! A 40! A 40 così! Prepari! Questo è eroe, ragazzi! Oh! Down air! Up tilt! Up tilt, sì! Molto interessante! Schiappi su schiappi! 25%! Perché... Tra poco... Terry ha il duo se arriva a 100! Quindi... Lì... Basta poco! La conferma! Diventa ancora più forte! Però vedi come... Trovo che cerca... Costantemente la spina! Off stage! Eccolo! 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 Oddio! Dove la palla del... Butterwolf! Eccolo! Eccolo! E non muore! E' bastato! E al prossimo... Che cazzo di claccia ragazzi! Ha preso poi il Wi-Fi! Che claccia! Che claccia! In comeback incredibile... 2-0! 2-0! 2-0! Quindi è come se gli avessi levato 5 stop! Dai diciamo qua! O se no! Possiamo dire che... Alla costa si è preso 5 stop! A questa parte! Si è preso ben 5 stop! Se vogliamo essere matematici, fare calcoli... Se vogliamo attribuire... Si è preso 5 stop! Bene! 1-0! 1-0! Moralmente! Moralmente! Sì! Vabbè dai! Le due SD! Molto strano questo primo game! Voglio vedere come se lo aiuteranno più avanti! Però comunque ho visto il Mamataro! Incazzato come mostra! Cioè! Per lui non viene la verità! Guarda! E' nero! Nero! Eh eh! Bisogna stare attenti... A quello che può fare il personaggio avversario! Terry! Se non sai quello che può fare... No Terry è... Mi prende certe cose assurde! Terry è strusso! Terry è un personaggio del merda! Terry è morto! No! No! Si scherza ragazzi! A mio signore di Twitch mi dissocio! Assolutamente! In realtà mi associo però in privato! Si! Senza dirlo a tutti! Esatto! Senza dirlo a tutti! Ok! Prima che mi mandato! Non mi ricordo se ha bastato... No! Ancora mi ha stopperito! Lo vedo molto pensierosa eh! Sta pensando! Sta pensando! Sta pensando! Sta facendo la Shinji! Ok! Sta facendo la Shinji! Niente! Eroe però cambia skin! Sta a vedere! Cambia eroe? Poi era la stessa skin di prima! Non lo so! Prima era la skin rossa! Adesso cambia tutto! Adesso è blu! Perché adesso cambiano le hitbox! Cambia le artbox! Ma... Aspetta! Ma... Ma qua... Non sento... Non sento proprio quei suoni! Esatto! Tipo... Sì! Era tipo... Ok! Attimo... La musica! Ma tipo... Non sento le voci! Nessuna! Non sento le voci! Ok! Questo uomo non... Non sento le voci! Non sento le voci! Non sento le voci! Non sento le voci! Ok! Oh! Oh! Tristock! Ma mia! Assurdo! Tristock! Incredibile! Assurdo ragazzi! Ma... Quante torate ha questo game? 30 secondi? Asfalta! Asfalta! Ragazzi! Mi dispiace ma questo set... Eh... Sarà molto breve secondo me! 1-1! No! Chiaramente! No! C'è un piccolo problema tecnico sull'audio! Non è possibile! Ma si può mettere il mamator almeno 1? No beh! Oppure 5? Beh! Mi sembra un attimino eccessivo forse! Non vorrei dire... Eh no! Devo portarlo come era prima! Ok! 5-1! Consigli! Intanto un cambio di scheme... Cos'è esso così soppiata la parte di... Di agosta? A first time! Agosta! Oh! In 56! Mamma mia! Gli incantesimi! Eroe non ha senso questo personaggio! Attenzione! Con un vantaggio non indifferente! Non indifferente assolutamente! Lo sto giaggando mamma mia! E' molto rischiosa questa Fsmash! Quindi sembra possibile! E questo è tutto proprio! Eeeh... Eeeh... Immagrazio di quanto poco conosco sui personaggi! No! Io diciamo... Più che conosce... La legge! Oh! Ha fatto una via un po' ballerina oppure... Eeeh... Tutto quel... Anche, anche, anche! Entrambe le cose! Attenzione! Morte istantanea! Non hitta! Recupera alto! Per il cuore! Per il suo bene! Per il cuore! Attenzione! Attenzione! Il cuore non serve! Il cuore non serve! Si! La zampata veramente! La zampata sui reni! Attenzione! Gli sta mettendo una pressione incredibile! Roll in! Però! Buster Wolf! Ah! Buster Wolf! Oh! Ma! Eeeh! Per pochissimo! Questo scontro in aria così! Sprecchi riflesso! Sprecchi riflesso! Sprecchi riflesso! Sprecchi riflesso! Sprecchi riflesso! Adesso mi sa... Eh esatto! Non si può più prendere quella roba la! Però vedi! Entra qui da Shattak! Oh! La presa! Ma che hitbox è! Ma che hitbox è! Ragazzi! Io vedo il monotone leggermente tiltato! Lo vedo un po' ecco! Però c'è un reaction live! Quanto meno contrariato dalla cosa! Esatto! Cioè! Ma come minimo! Lo potrei capire benissimo! Oh! Oh! Attenzione! Sì! Ma hai fatto la finta del... Se la sciaporti non lo capiscono! Si! Questa rolle pazzarella! Molto online experience! Però gas! Allora! Però gas 30! Gas 30! Allora! In realtà non è molto... Tiene scudo! Fa bene! Però sappiamo che eroi è più... Criccate! Una cosa che sbaglia sicuramente è che non si sta muovendo! Sta solo cercando... Cioè sta cercando molto gli dupesiti di tutto quanto! Non so cosa si chiama! Forse sta troppo attento a dove è sullo stage perché sta molto cornerato, si tiene a distanza Una cosa l'abbiamo visto La sprecatissima Ma lui bastava un critter Oppure Non è un incantesimo forte Una sfadata Attenzione, vista la tech Niente edgeguard, perché è difficile per l'eroe Bello qua, tiene scudo Non punisce, prova dash grab Attenzione È bastardo È bastardo Ha fatto l'airdodge Abitante, oral b, ci saluta Dall'Arabi Ha fatto l'airdodge sul primo hit E vince così, no a zero